Allora prova prova eccoci cominciamo anche per questo sabato mattina lo spazio non in diretta da questo palco quindi in questo momento è tutto per chi passa di qua, un momento di intrattenimento per la piazza centrale dell'artigianato noi siamo RBA, radio e tv ma in questo specifico momento non siamo né radio né tv un po' il privilegio di ascoltarci dal vivo oppure niente io sono Alessio, io sono Darianna e cominciamo subito molto forti con un gruppo qua molto numeroso e molto composito c'è un ospite misterioso alle nostre spalle che però in realtà porta una scritta saluta poi chiaramente ci si può fare la foto con questa mascotte più avanti Torino 2025 Fisu Games quindi in buona sostanza di che cosa stiamo parlando? Allora buongiorno a tutti innanzitutto permettetevi di fare i complimenti perché questa piazza è bellissima come bellissima Pinerolo sempre quando c'è la fiera dell'artigianato i Fisu Games sono le già universiadi, oggi li chiamiamo giochi mondiali universitari e sono il più grande evento sportivo universitario che c'è al mondo non sono da confondere con i giochi della gioventù o altre cose simili perché il livello dello sportivo è molto alto, spesso farà probabilmente l'Olimpiade due anni dopo molte volte succede quello, è solo una questione di età quindi siamo parlando di un evento sportivo di livello altissimo che va a mettere in evidenza quelle che sono le città e le strutture delle città del mondo del ghiaccio e della neve nello specifico e quindi insomma io mi ricordo, vabbè non sono passati così tanti anni le Olimpiadi di Torino 2006 e anche allora Torino non voleva dire Torino e basta assolutamente no la città di Torino e basta e quindi anche in questo caso c'è uno sguardo un po' più ampio però ci facevi capire che insomma il fatto che siano a Torino questi giochi non è proprio una città qualunque c'è una storia assolutamente lì nascono nel 1959 per volere di primo neviolo che era un dirigente sportivo un visionario, una sorta di Sea Jobs dell'epoca che riuscì a mettere insieme le federazioni e a inventare le universiadi nascono in una buona stella e diventano immediatamente un evento importante poi crescono e arrivano fino ai giorni d'oggi cosa sono i giorni d'oggi dell'università? Sono uno straordinario momento di promozione sportiva universitaria ma anche di promozione del Piamonte fondamentalmente si chiamano Torino 2025, sarebbero potuto tranquillamente chiamarsi Piamonte 2025 e vanno a mettere in evidenza appunto quelle che sono le città che vanno a ospitare i giochi sono divisi in due parti fondamentalmente il mondo della neve e il mondo del ghiaccio Pinerolo sarà una delle città che ospita il ghiaccio ma abbiamo anche Torre Pellice, abbiamo poi Torino abbiamo Sestier, Bardonecchia e Pragelato riguardante il mondo della neve quindi diciamo l'intero arco della montagna quasi l'intero arco della montagna è coinvolto e lo fa mettendo in evidenza quelle che sono forse le cose più belle in questo momento dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista turistico perché ho citato delle località che sono importanti dal punto di vista turistico ma anche delle località che hanno degli impianti importanti dal punto di vista del ghiaccio Quindi come avviene durante le Olimpiadi, durante questi eventi sportivi sarà un po' itinerante? Ci saranno anche degli eventi correlati alle gare vere e proprie? Beh, dobbiamo dirlo, sarà una grande festa grazie alle disponibilità delle amministrazioni noi in ogni sede di gara stiamo organizzando delle feste e dei momenti ludici perché alla fine tutte le competizioni legate al mondo dello sport sono sempre comunque una grande festa innanzitutto porto i saluti del Presidente Ciretti e del Comitato perché è la cosa più importante ho voluto salutare la città ma ho dimenticato la cosa più importante proprio lui nell'ultimo meeting in FISU che è la federazione che è a capo delle università ha detto che avrebbe realizzato, il Comitato avrebbe realizzato lui per il Comitato, l'evento più bello di sempre tra questo c'è il divertimento quindi da un lato abbiamo la parte sportiva dalla lato abbiamo la promozione delle città e dei luoghi dalla lato abbiamo la promozione del sistema universitario ma soprattutto abbiamo feste e divertimento questo è fattibile esclusivamente grazie al supporto però delle amministrazioni perché sono le amministrazioni che conoscono bene il loro territorio e sanno come fare l'evento perfetto infatti noi a Pinerolo abbiamo subito accolto benissimo la loro richiesta e anzi stiamo lavorando con entusiasmo al loro fianco perché abbiamo visto e abbiamo pensato che questa manifestazione ricadrà sul territorio ma ricadrà su tutto l'arco di cui parlava prima Montano e Pinerolo e quindi ci stiamo dando dentro bene 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 solo insomma in questa estate qua chiaramente abbiamo molto nella nostra testa sia l'entusiasmo che insomma tutti i riti delle Olimpiadi abbiamo visto le Olimpiadi sono in corso le Paralimpiadi e quindi insomma ci sono alcuni elementi che quando c'è un Iadi alla fine di un elemento sportivo si fanno sentire c'è anche una fiamma anche in questo caso? esatto c'è una fiaccola, una torcia come negli eventi sportivi a questo livello che sono poi due appunto Olimpiadi e Universiadi e quindi c'è un tour la fiaccola si chiama la Guarini al femminile e rappresenta la cupola del Guarini che abbiamo in centro a Torino alle spalle della Sindone è stata realizzata al Politecnico è una fiaccola moderna e innovativa potrà diventare anche una lampada messa al contrario questa è una cosa importante e soprattutto non al fuoco perché è stata una scelta etica del comitato e quindi ci sarà adesso vi racconterò del tour della fiaccola ma il 20 settembre ci sarà l'accensione del coltile del Rettorato dell'Università a Torino come avviene tutti gli anni faccio però un passo indietro perché è una cosa che non sa nessuno Torino è come Olimpia quindi ogni volta che c'è un'università in qualsiasi parte del mondo il comitato organizzatore negli ultimi anni è stato sono state negli USA e in Cina sono venuti a Torino ed hanno acceso la fiaccola e l'hanno portata esattamente io vorrei una maglietta che ha scritto Torino come Olimpia posso dire abbiamo i colleghi dall'altra parte anche ti mi raccomando anche l'Astag a questo punto aggiungo io Torino come Olimpia però sì ecco questa è una cosa che non è conosciuta ai torinesi e neanche voglio dire credo nel resto del Piemonte però è una cosa importante in cui non vogliamo puntare tour della fiaccola quindi il 20 settembre c'è la partenza del tour della fiaccola che toccherà alla fine logicamente tutte le venue di gara tutte le città di gara all'inizio farà un giro un po' grande internazionale toccherà Bruxelles toccherà New York noi saremo presenti a Columbus Day insieme alla regione Piemonte al governo italiano e saremo proprio la fiaccola farà il Columbus Day è una sfilata e la fiaccola sarà al Tredunione in tutta la sfilata fondamentalmente andando a raccontare insieme a tutte le ragioni italiane partecipanti il nostro evento fondamentalmente quindi sarà un momento molto molto importante sarà a Bruxelles al Parlamento Europeo sarà a Losanna che è sede della FISU sarà a Trento dove ci sono stati gli ultimi giochi l'ultima università di invernali sarà a Caivano e a Salerno a Caivano perché ci sarà un momento importante universitario e anche come segnale a Salerno perché sarà sede dei prossimi giochi dell'EUSA che è un altro organismo che organizza giochi non olimpici ma giochi legati agli studenti e poi sarà credo di averle dette quasi tutte fondamentalmente e poi torna in Italia e torna comunque comincia a fare il giro verso la fine passerà diciamo attraverso tutte le città che ospitano i giochi questo insomma immagino che tutti i dettagli lì si possa trovare su qualche portale qualche sito quindi ricordiamoci 10 dicembre ci sarà il passaggio della fiaccola Pinerolo e noi ci stiamo organizzando per e qui sarà una grande festa lo dico ai pinerolesi lo dico ai piamontini lo dico a tutti sarà una grande festa e qui conto anche sull'aiuto di tutti anche dei presenti voglio dire voi siete radio e televisione ci siete oggi suppongo ci sarete forse anche il 10 qui dobbiamo dare il massimo stiamo vicini al telefono quando c'è bisogno noi arriviamo per chiudere abbiamo insomma io ho aperto un po' questa questa chiacchierata menzionando la mascotte alle nostre spalle quindi anche in questo caso come nelle Olimpiadi nelle Paralimpiadi c'è una mascotte che abbiamo qui dietro? abbiamo la nostra Totag che saluta saluta Totag non ha sesso non ha lingua nel senso che non parlano che non ha la lingua nel senso che non ha una lingua specifica è simpaticissima però cioè è brava ama tutti ama i bambini quindi come dire è un po' una sorta di perfezione quello che vuole essere anche in qualche maniera una competizione internazionale vuole racchiudere tutto quindi Totag è qui ed è un link per il futuro chiaramente come lo sono i giovani Totag è super inclusiva infatti guardiamo anche le sue mani sono particolari ma c'è un motivo perché Totag ha queste mani particolari e ce lo dicono proprio ce lo raccontano un po' le parolimpiadi che magari la biomeccanica ci può aiutare anche nello sport la faccia di Totag è un emoji che rappresenta sempre l'allegria quindi una inclusione unica fatta a Totag meravigliosa io la trovo bellissima esatto insomma prima già faceva qualche foto in giro direi che adesso quando vi facciamo scendere con qualche difficoltà forse ma ce la faremo magari facciamo ancora qualche momento insieme per stare dietro a tutto questo per nel caso ci dimenticassimo le date tutto quanto dove troviamo tutto il nostro sito www.victorino2025.com colgo ancora l'occasione mi allaccio a ciò che ha detto l'assessore Bruna abbiamo insieme i giochi normali noi abbiamo anche i giochi para dove sono però delle competizioni particolari i nostri atleti gareggeranno insieme agli atleti diciamo normodotati per quanto riguarda quelli sport semplicemente con con una sorta di gap che va a bilanciare diciamo ecco non ci saranno delle gare a parte le gare ecco ecco un discorso di inclusività le gare saranno insieme questo è molto importante perché è una vera maniera dal punto di vista sportivo di inclusione quindi non una cosa molto interessante a parte quindi non disabile ma diversamente abile in questo caso molto interessante se posso ancora 30 secondi perché non lo fa mai nessuno approfitto che ci sono io e ringraziare la grande squadra i colleghi di Torino 2025 un evento di questa portata funziona perché è fatto col cuore l'80% dei colleghi sono professionisti degli eventi sportivi arrivano a tutto il mondo arrivano da un evento precedente e andranno da un evento futuro il 20% rimanente sono professionisti capaci su temi specifici la maggior parte dei colleghi sono molto molto giovani chiaramente quindi per loro è anche un'esperienza importante di formazione per il loro futuro e quindi da parte della direzione del presidente Sciletti va comunque il ringraziamento a loro perché c'è Totag c'è il presidente c'è magari chi è sul palco a raccontare ma dietro tutto questo lavoro di sabato di domenica spesso in settimana fino a tardi ci sono i colleghi del comitato alcuni forse ne vediamo qua ma ti posso dire una cosa che abbiamo dimenticato della Guarini assolutamente sì la Guarini si accenderà con una luce rossa rossa non a caso perché la Guarini è stata pensata anche un po' contro la violenza la violenza di genere non solo la violenza sulla donna ma proprio la violenza in generale vogliamo e quindi è un messaggio forte che il comitato e chi accompagna il comitato vuole mandare la nostra lotta contro la violenza è permanente esatto messaggio di pace questo è un distingo importante perché spesso si tiene ad essere contro qualcosa mentre sarebbe logico essere sempre contro tutto ciò che è sbagliato e non solo contro qualcosa grazie chiaro allora grazie mille davvero magari ogni tanto ho dato un po' d'acqua a questa mascotte che forse era in misi invernale visto che i giochi saranno a gennaio però insomma il sole batte forte grazie mille davvero grazie a voi facciamo una foto ricordo con voi con totag via così venite anche qua sotto questo è un gruppo rap anni 90 ah così ah c'è proprio non facciamo però grazie grazie allora quando è la data Bruna? ricordiamolo la data la data saremo a gennaio dall'8 al 23 perché l'8 faremo le gare iniziali così per scaldare un po' il ghiaccio fino al 23 al pala ghiaccio di Pinerolo viva le universiadi viva Pinerolo grazie grazie mille 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 grazie mille